Ho appena votato, l'emozione del primo voto perché votare nel Parlamento italiano, a Montecitorio, per quello che sarà il nuovo Presidente della Repubblica è davvero un fatto che mi carica di grande responsabilità come Presidente della Toscana. Il primo voto è che sappiamo che come in un conclave succede che ogni giorno finché non si raggiunge la maggioranza e la convergenza su una persona si continua. Il primo voto è quello che davvero rappresenta l'inizio di un percorso che spero nell'arco di questa settimana possa far convergere la maggioranza dei voti su una figura che sia profilo di grande responsabilità, non espressione di una maggioranza e di un'opposizione, ma invece una persona che allarga maggioranza per la sua statura, il suo profilo, la sua etica, il suo modo di poter interpretare il popolo italiano possa essere quel capo dello Stato che nelle ultime occasioni abbiamo tutti guardato con orgoglio. Dai tempi di Pertini, nelle tre occasioni del Presidente, figure come Ciampi, figure come Napolitano, figure come Sergio Mattarella hanno svolto veramente a pieno e nel modo migliore il proprio ruolo. Ecco perché la scheda di chi come me è chiamato al voto deve essere qualcosa che può portare a questo futuro per un Paese, l'Italia, che ha davvero bisogno di stabilità, autorevolezza e rispetto delle istituzioni.